Le parole di mio padre Le parole di mio padre erano improntate a praticità più che intese a consolare. Io annuivo sorridendo incerto. A volte desideravo intensamente sentir ridere mio padre, che non sorrideva mai. Quindi, intuivo che io e mio padre condividevamo qualcosa di speciale che non apparteneva agli altri figli e genitori, ma non c'era modo di andare al di là di quel corpo sempre rigido e mai fermo. Di una cosa potevo rendermi conto, e cioè che mio padre era permanentemente inguaribilmente stanco. C'erano tante cose da fare nella piccola azienda di cui eravamo proprietari. Non c'era mai tempo abbastanza e mio padre, io e i due dipendenti, spesso non ce la facevamo. Lasciavamo andare occasione di guadagno e lui ne approfittava per andare a caccia in Africa. Quella era una delle sere di pausa. Io mi trovavo a casa di mio padre, grandi foto, con gli animali uccisi. Papà, perché hai deciso di non cacciare più gli chiesi? Mi dicesti che pagavi per uccidere gli animali anziani. Sì, pagavo per uccidere i leoni vecchi. Perché comunque sarebbero morti a breve? Sì, pagavo per il piacere di uccidere. La guida africana ci portava nel profondo della riserva, dove la densità animale era maggiore. Continua.